Altro esperimento praticamente identico, siamo di nuovo in Kenya in un'altra località e questo è il cartello dove passa l'equatore. Questo signore ha riempito una bacinella d'acqua, l'appoggia sul secchio, naturalmente c'è il foro e vediamo che l'acqua scende nel foro senza ruotare. L'acqua scende, ce lo fa vedere questo bastoncino che non ruota, si vede che l'acqua non sta girando, scende senza ruotare, senza fare un gorgo. Invece nell'emisfero nord vediamo che l'acqua scende avvitandosi in un gorgo orario, infatti vediamo che i bastoncini ruotano in senso orario. Nell'emisfero sud succede il contrario, i bastoncini ruotano in senso anti-orario e l'acqua scende nel foro avvitandosi in senso anti-orario, counterclockwise.